Buongiorno Maurizio Poli, volevo commentare con voi la notizia che apparsa oggi sull'ANSA e anche su alcuni quotidiani del disavanzo dell'Inps è andato in rosso per parecchi miliardi di euro, quindi questo aspetto qui è importante da capire. L'Inps è in disavanza nel 2016, già adesso. Sui conti dell'Inps ci fanno conto, tra virgolette, il gioco di parole, molti pensionati, stiamo assistendo in tv a molte interventi del governo che vuole ora le pensioni di diversibilità, ora le pensioni d'oro, ora sempre però la parola pensione. Sta arrivando, dovrebbe arrivare a 150.000 persone la busta, famosa busta aranciona da cui vedo la mia posizione, è il sito che si chiama busta arancione.it in cui io posso accedere e vedere esattamente la mia posizione pensionistica, ma molti hanno bisogno di un check up personalizzato per poter vedere quanto potranno percepire e cosa c'è da integrare. Quindi l'importanza di pianificare, prevedere con i fondi di previdenza integrativa il proprio reddito per un futuro sereno, per un futuro sereno per la propria famiglia e come diciamo sempre noi, tu chi vuoi proteggere? Quindi la protezione del proprio reddito e della propria famiglia è meglio pensarci adesso, subito. Quindi vi rivolgo sempre, vi lascio i nostri riferimenti 0372 20405, una mail info. chiocciola.io.solution.it oppure il mio sito dove trovate tutti i riferimenti è www.mauriziopoli.it e siamo lieti poi di un piccolo colloquio informativo, un piccolo check up della vostra posizione pensionistica. Grazie e buona giornata!